Buonasera e benvenuti a quanti ci seguono da casa. Siamo a Piazza Rosa dei Venti, a Marina di Sibari. La nuova Piazza Rosa dei Venti inaugurata qualche anno fa dalla nostra amministrazione. Stasera abbiamo un grande evento, abbiamo Peppe Iodice, Peppe Iodice Show. Peppe Iodice classe 70, noto comico, capparettista napoletano, alla ribalta con diversi show in onda su diversi emittenti nazionali. A seguire abbiamo il 911, una frizzante band che alliederà la serata con le migliori canzoni revival della musica italiana. Abbiamo un calendario estivo davvero ricco di eventi, abbiamo un appuntamento ogni giorno. Questo è uno dei tanti eventi. Successivamente avremo i Mattia Bazzar a Lauropoli, a Piazza Capolanza, il 13 agosto. Il 14 agosto è un grandissimo evento con Giussi Ferreri. Giussi Ferreri non ha bisogno assolutamente di presentazioni. Si terrà anche questo a Marina di Sibari. Ci sarà un altro evento a Millepini con l'Expert Trio. E poi ci sarà un evento il 20 agosto al Parco del Monte, una bellissima cartolina naturale, il nostro monte. Ci sarà Cosimo Papandrea. E poi ci avvieremo verso la Notte Bianca dove ci saranno davvero tante iniziative e tanto intrattenimento. Insomma, quest'anno l'offerta artistica e culturale è davvero vasta e ricca. Un lavoro di squadra sicuramente, diversi protagonisti. Sicuramente non possiamo che ringraziare la Proloco Sibaris Magna Grecia nella figura del presidente Getano Serrago che ci ha aiutato alla realizzazione di questo fantastico programma estivo. Tutta l'amministrazione, l'apparato comunale, gli uffici, la nostra squadra manutentiva capitanata da Giuseppe Perri che dedicano il loro massimo impegno in serate e in periodi come è agosto, insomma, dove tutti vorrebbero trascorrere dei giornati di relax e sono qui a lavorare per noi, a lavorare per voi. Non ci resta che augurarvi una magnifica permanenza nella nostra bellissima città e vi invitiamo a seguire questo fantastico cartellone.